Emilia Romagna e Sharawi Cooperazione e Accoglienza è partita la missione istituzionale guidata dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa Simonetta Saliera nei campi profughi del sud algerino di recente colpiti da una grave alluvione. Dopo gli incontri con le istituzioni locali si vuole fare il punto sui progetti di cooperazione finanziati dalla nostra regione. Verificare quanto in più di vent'anni di cooperazione sostenuta dalla regione Emilia Romagna si è fatto nei settori della sanità, dispensare i farmaceutici, nelle scuole, nell'operare insieme alle donne per progetti di costruzione di lavoro e di futuro per i loro figli. L'altro punto fondamentale è come far sentire la nostra vicinanza a un popolo, il popolo Sarawi, che vive in campi profughi, in Algeria in particolare e che non hanno ancora la loro terra. Bisogna ascoltare quella voce in un territorio, in una zona del Nord Africa che vive tante contraddizioni, non certamente con quelle caratteristiche che ha quel popolo. Libertà, democrazia, rispetto delle persone e laicità dello Stato. E allora oltre alla vicinanza è anche un appello, il nostro, verso l'Europa, verso l'ONU perché avvenga questo referendum e che questo popolo abbia le risposte che si merita.